Il sindaco di Ferratta Maggiore, che cosa si aspetta il vostro comune dal piano strategico metropolitano? Sicuramente già da questi primi incontri è un'occasione da non perdere, avremo la possibilità di investire soldi, di investire sui nostri territori, non attingendo ai fondi comunali e questo sicuramente va a beneficio delle nostre città e dei nostri cittadini che potranno godere di servizi in più, di spazi in più, di strade che al momento e forse attualmente non potevamo fare, ma che con questi fondi riusciamo ad attuare. Voi siete i più vicini ai cittadini, perché siete sindaci, se lei dovesse indicare ai cittadini concretamente una o tre o due soluzioni che il piano strategico potrebbe realizzare per voi? Sicuramente spazi verdi e viabilità, poi io ho fatto una richiesta specifica che riguarda il nostro territorio specifico, cioè quello del completamento del tratto di asse mediano, che attualmente è chiuso totalmente, ma che incide su fratta perché tutto il traffico si riversa lì, quindi completando insieme a città metropolitana quel tratto di asse viario, sicuramente doneremo ulteriore viabilità e vivibilità ai nostri cittadini. In questi giorni si è un po' discusso della partecipazione al piano strategico, ma a tutta l'attività della città metropolitana, che è un ente nuovo, difficile, complicato, la legge è abbastanza confusa, ma perché e come mai i sindaci non partecipano all'attività della città metropolitana? Beh, forse perché non conoscono bene ancora le potenzialità che può offrire la città metropolitana. Io credo che soltanto con riunioni come queste, mettendoci tutti insieme intorno ad un tavolo e discutendo delle problematiche e delle possibili soluzioni, riusciremo a dare risposte concrete ai nostri cittadini. Sarà ancora duro, lo vedremo, però se non ci impegniamo e non ci mettiamo in prima persona a lavorare, la vedo ancora più dura.